non prendertela se le cose non vanno così come avevi programmato per poter valutare se un seme è buono bisogna aspettare che dia frutto bisogna aspettare che germogli che che cresca la pianta e che poi alla fine dia frutto e non è detto che accada subito magari una pianta prima di dare frutti ci mette qualche anno poi magari un anno non li fa nemmeno però vedi se iniziamo a disperarci se iniziamo a deprimerci per il fatto che non vediamo realizzati i nostri obiettivi entriamo a volte in un stato d'animo che in realtà ci preclude ancora più la possibilità effettiva di andarli a realizzare sai è proprio un approccio nei confronti della vita se tu pensi che la vita sia qualcosa che accade a prescindere da te che non dipenda tanto da te che dipenda più da dalle persone che incontri che dipenda più dalle possibilità che la vita ti offre che dipenda più da appunto da ciò che ti accade intorno tu rischi di commettere a mio avviso un grande errore cioè rischi di andare a esternalizzare portare all'esterno quello che è il tuo reale potere quella che è la tua reale possibilità di cambiamento vedi questo è un tema che in psicologia conosciamo bene ormai ovvero il fatto che quelle che sono i fatti della vita vengono vissuti in maniera molto differente dalle persone e questo a seconda della rappresentazione che le persone hanno di quegli stessi fatti della narrazione che fanno direbbero altri più in generale potrei dire del senso che diamo alla vita del senso che diamo alle cose che accadono in essa ciò che tuttavia noi spesso sottovalutiamo non teniamo in considerazione forse in virtù anche di una visione romantica di noi stessi di fatto è che noi possiamo intervenire su quel senso noi possiamo cambiare il nostro modo di intendere le cose per esempio potrei trovarmi di fronte ad un problema appunto una situazione che non si realizza così come avrei voluto che si realizzasse e quello che posso fare per esempio è vivere questa come un'opportunità direi come posso fare questo in realtà il modo per farlo è semplice è uno scatto della mente edison a un certo punto quando venne intervistato da un giornalista dopo la sua grande scoperta del tuxteno quindi di questa di questo di questo elemento che gli permise di creare la lampadina appunto quando venne intervistato il giornalista gli disse ma scusi ma lei come ha fatto a gestirsi 2000 fallimenti prima di riuscire a trovare il tuxteno edison fu quasi indignato si arrabbiò disse ma lei come si permette io sono uno scienziato non sono fallimenti sono stati esperimenti sono stati dei dei successi perché io ogni volta ho scoperto che quel materiale che stava utilizzando per fare una lampadina non era il materiale giusto e quindi potevo catalogare e andare avanti a cercare finalmente quello che sapevo sarebbe stato il giusto materiale capisce l'approccio di edison che ebbe in quella frangente fu un approccio diverso rispetto al problema rispetto al limite rispetto alla difficoltà accade qualcosa di negativo nella mia vita io posso leggerlo in tanti modi questo normalmente non ce lo concediamo spesso veniamo presi da una serie di riflessioni di pensieri di emozioni di sensazioni spesso perché non siamo nemmeno allenati a questa introspezione a questa capacità di auto regolare i nostri stati interni a questa capacità anche di lavorare sul senso che diamo agli eventi della vita semplicemente lo subiamo come subiamo appunto la rappresentazione che abbiamo della vita stessa il suggerimento che però vorrei darti oggi è questo prova a considerare questo aspetto prova a considerare quanto le difficoltà i problemi le cose che non accadono così come vorremmo possono essere viste in tanti modi diversi potrebbe essere che magari poi le stesse difficoltà servono a portarci a un cambiamento maggiore servono a trasformare la nostra visione delle cose servono a farci implementare delle competenze cerca servono per per farci capire che quelle situazioni che stiamo vivendo non vanno più bene per noi allora magari dobbiamo cambiare contesti ecco noi possiamo cambiare la nostra prospettiva e anche solamente comprendere questo è davvero importante capire che tu puoi operare sul senso che dai alla vita puoi operare su quello che è il senso che dai agli eventi quotidiani che costantemente si manifestano nella tua esistenza più riuscirai a fare questo più riuscirai ad attingere ad un potenziale più grande dentro di te perché riuscirai a mantenere una solidità interiore che prescinde dagli eventi dai fatti della vita e questo può essere davvero un grande un grande così punto di forza un grande sostegno che davvero può accompagnarci molta più serenità